...hanno recuperato dalla base. Si accenna a uno scavo in corso tra i monti Urali, Yamantau. Il nostro infiltrato nel KGB conferma che si tratta di un'operazione attiva. Yamantau. Credevo che Azzon e Weaver avessero seppellito quel posto anni fa. È così. Perseus vuole recuperare il mainframe. Dragovich e Steiner devono aver lasciato roba buona indietro. Steiner. Manda me, Fuzz. Tu sei troppo coinvolto, Mason. Non possiamo permetterci casini. Cazzate. Sai che nessuno è più adatto per questo. Decido io. Voglio Mason e Wals in azione. Trovate quel mainframe prima di Perseus. Contatterò Bellicoff, il nostro uomo nel KGB. Darà supporto logistico. Scommetto che insisterà per pilotare l'elicottero. Qualunque cosa voglia Perseus a Yamantau, io la voglio di più. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono al punto d'uscita. Siete pronti? Ti vediamo, Dimitri. Aspetta, non c'è più tempo. Dobbiamo saltare. Andiamo, Mason. Mason, dobbiamo scendere lì, subito. Il mainframe è grosso. C'è troppo grosso, non potremo sollevarlo. Mason, dobbiamo scendere lì, subito. Ma no, è grande il giusto. Non fermarti. Guarda per gli azariani! Mi ha avuto la critica! Più veloce, Mason. E tu! Spenditi da fuori! Oh, peccato. Dimitri, siamo in posizione. Tira giù il gancio. Arriva! Mesoth, passami quel cavo! Siamo agganciati, Dimitri! Tira giù! Siamo agganciati, Dimitri! Tira giù! wow attenzione questo peso non ci aiuta dati una mossa a velikov reggetevi cazzo rallenta rallenta accelera rallenta io penso a pilotare voi a sparare siamo fuori dimitri portaci a casa adson l'analisi del mainframe trovato da mesone buza yamantau è finita e per seus cercava i nomi degli infiltrati usati da dragovic nel 68 dacci quei nomi metteremo adler e i suoi sulle loro tracce per seus li ha cancellati cazzo ora queste informazioni sono presenti solo in un posto il palazzo del lupianca cosa la sede centrale del kgb perché per seus non li ha presi lì non so forse sta agendo senza autorizzazione avviserò adler ma ci conviene farlo nel modo giusto o tanto vale non farlo affatto grazie a tutti 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 Likov è tornato a Mosca Conoscete il piano Bell, tu con me Lazar, pronto all'estrazione Verrà nel palazzo del KGB insieme a te Sei pazzo Aspetta che ritornino Mason e Woods Non mi servono Mason e Woods Voglio Bell alle capacità che servono Lo trovi divertente Così metti a rischio l'intera operazione Senza motivo Non è senza motivo È calcolato Tieni a mente Che se fallite Possiamo scordarci quei nomi È finita So che puoi farcela Hudson non si fida di chi non può controllare Sei qui per convincermi che dovresti condurre tu l'operazione Davvero? Beh, non ti nascondi dietro Adler Te lo concedo C'è altro? Sono informazioni riservate Per quel che mi riguarda Non hai nessun motivo di conoscerle Mettiti in contatto con lui e obbedisci a Adler Negativo Provistando nel database più segreto del KGB Verrebbe scoperto Bruciando la copertura Vi farà entrare Ma non si avvicinerà a quei nomi No, non abbiamo il tempo di crearle Belikov ci darà delle uniformi Dopodiché vi toccherà improvvisare Strategicamente parlando È quasi una follia E infatti Adler è la persona giusta per questo tipo di lavoro La persona più fedele ad Adler O carne da cannone Con estremo piacere Lasciarsi dietro una scia di teste Non passa inosservato Dobbiamo sapere che vuole fare Perseus con la testata Park, c'è qualcos'altro nello stampato che Belle e Woods hanno recuperato dalla base?